Il capoluogo trascina e contagio in regione, il presidente Fedriga in campo. Nel mezzo di una pandemia le idiozie Novax non devono trovare spazio. Alziamo la voce anche noi, il vaccino c'è, funziona e sicuro. A Trieste il più grande focolaio, 93 persone positive al Covid, tra i partecipanti a manifestazioni no green pass. Fino a fine anno stop a cortei e proteste in piazza Unità, pugno duro contro gli assembramenti senza mascherine. Un intenso fronte freddo in arrivo in regione, contemporanei, nubi fragili, mareggiate fra Lignano e Grado. Allerta gialla della protezione civile, le previsioni del nostro Antonino Renda. Dopo un anno di stop le giostre tornano in piazza primo maggio a Udine. Luna Park è previsto fino al 14 novembre, ma gli operatori chiedono di restare anche durante la fiera di Santa Caterina. Il passo di un punto a partita non convince Ipozzo, squadra in ritiro da domani per preparare la gara interna contro il Sassuolo. Gara fondamentale per Gotti, sondato Maran. A tutti voi buonasera e ben trovati a questo appuntamento con il telegiornale di Telefriuli. È arrivato il momento che la maggioranza silenziosa cominci ad alzare la voce. Lo ha detto oggi il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, commentando l'andamento dei contagi in Friuli, Venezia, Giulia e soprattutto le tante manifestazioni no green pass delle ultime settimane. Le stesse alle quali i dati alla mano è stato imputato questo aumento dei contagi che interessa in particolare Trieste. Il dato di oggi è anche quello che vede l'occupazione delle terapie intensive salire al 10%. E quindi il presidente Federico è sceso in campo usando parole anche molto dure. Ho paura di una ripresa della pandemia, non di quattro scemi su internet, ha detto testualmente. Dito puntato contro gli squadristi da tastiera, ha detto la scienza è dalla nostra parte, nel bel mezzo di una pandemia non possono trovare spazio le idiozie. Abbiamo un'arma, sono i vaccini, la scienza ci dice che sono efficaci e sono sicuri. Io ho paura della pandemia che ricominci a correre, ho paura delle persone che si ammalano, ho paura di un'economia che rischia di rallentare di nuovo, dopo invece il grande sforzo che le imprese e i lavoratori hanno fatto in questa regione. Non ho paura di quattro scemi su internet che minacciano, offendono e raccontano menzogne. Non ho paura perché da una parte c'è la verità scientifica, dall'altra c'è l'idiozia e l'idiozia, come dicevo, non può più avere spazio. Parole di fuoco rivolte a chi da settimane combatte la lotta alla pandemia con falsità e insulti. Il presidente della regione Massimiliano Federico dimostra con le parole e con i fatti che la pazienza è giunta al termine, prima indicando al prefetto Valenti e al sindaco di piazza di firmare le rispettive ordinanze sulle regole per le manifestazioni e sulle limitazioni in piazza Unità d'Italia e poi firmando in prima persona la petizione di Mitia Gialluz contro le proteste no-vax e no-pass. Una decisione, quella del presidente Fedriga, arrivata nel giorno in cui a Trieste si supera l'incidenza di 350 casi ogni 100.000 abitanti e in cui le terapie intensive tornano sopra quota 10% di occupazione dei posti letto Covid. Sono misure di salute pubblica. Se uno pensa di stare non vaccinato, senza mascherina, non distanziato e urlandosi addosso, è chiaro che vediamo cluster come quelli nelle manifestazioni di Trieste che hanno numeri impressionanti, che dopo ovviamente iniziano una catena, non la finiscono, quindi contagiano e quelli che contagiano, contagiano altre e così via. Allora, o utilizziamo tutti un po' di buonsenso e di rispetto verso tutti, ma non è che qualcuno che racconta menzogne ha il diritto di non rispettare le regole, di mettere a rischio tutti gli sforzi che abbiamo messo in campo fino ad oggi per arrivare a questo risultato. Basta. Basta idiozie, lo dico con forza, basta stupidaggini. Che numeri purtroppo salgono in modo esponenziale? E l'esponenzialità vuol dire che in poco tempo potremmo far degenerare la situazione. Per questo oggi, ho sempre stato molto dialogante, ho sempre cercato di convincere tutti con la pazienza. Evidentemente per alcuni questo non serve. Oggi è il momento della chiarezza, della trasparenza e della decisione. Tutti capiscono che ognuno ha una responsabilità, dalle istituzioni al singolo cittadino a chi organizza le manifestazioni. Questa dunque è la premessa per una serie di provvedimenti che saranno presi tra oggi e domani e che verosimilmente non interesseranno solo Trieste, ma tutti e quattro i comuni capoluogo della nostra regione. Misure severe contro le manifestazioni, responsabilità di chi le organizza con sanzioni pesanti nel caso in cui durante le manifestazioni non si rispettino il distanziamento e l'obbligo di utilizzo della mascherina. L'avete sentito nelle parole del Presidente Fedriga, il cluster Trieste, il focolaio che in questo momento è quello più importante, con 93 infetti tra i partecipanti alle manifestazioni no green pass. Il legame tra cortei e aumento dei contagi è stato sottolineato dal Vice Presidente della Regione, Riccardo Riccardi. Persone giunte da ogni parte d'Italia a urlare, senza mascherine, schiacciati in lunghi cortei e manifestazioni senza fine. È una vera e propria tempesta perfetta per il coronavirus, come la definiscono insieme il Vice Presidente regionale Riccardo Riccardi e il Capo della Task Force regionale anticovidi, il Professor Fabio Barbone. Una tempesta che fa pesare le sue conseguenze sulla sanità regionale. Oggi l'organizzazione del sistema ospedaliero in particolare è organizzato per rimodulare in una gestione unitaria la domanda che si presenterà. E noi sappiamo che questa domanda, come io ho riferito all'aula in Consiglio regionale dieci giorni fa, noi avevamo già detto dieci giorni fa quello che sarebbe successo oggi, quello che stiamo commentando oggi, come noi più o meno immaginiamo di sapere che cosa succederà fra dieci giorni. perché questa è una tendenza in crescita. Oggi il focolaio più importante che c'è in regione ha origine dai cortei. D'altronde i cortei sono degli assembramenti di persone prevalentemente non vaccinate che urla e senza mascherina, uno vicino all'altro. Io credo che tutti quanti abbiamo imparato che se uno vuole evitare il virus quella è la prima cosa che non deve fare, oltre poi a capire che la seconda cosa che dovrebbe fare è quella di vaccinarsi. E i primi provvedimenti annunciati anche dal prefetto di Trieste Valenti riguardano proprio il capoluogo Giuliano e riguardano in particolare Piazza Unità che è diventata simbolo delle proteste, delle manifestazioni no green pass. Ebbene, in questa piazza non sarà più possibile manifestare poi, come si diceva, il pugno duro nei confronti delle manifestazioni e degli organizzatori delle manifestazioni laddove non siano garantiti distanziamento e uso della mascherina. Stop a cortei non autorizzati, regole inderogabili per quelli autorizzati, responsabili chiaramente identificati e piazza Unità d'Italia chiusa ad ogni genere di manifestazioni. Sono queste le conseguenze per Trieste delle ordinanze congiunte del prefetto Valenti e del sindaco di Piazza, che non vuole che l'immagine che il mondo abbia della sua città sia quella dei lunghi cortei e delle proteste del porto. Dobbiamo intervenire, siamo sempre stati fermati perché c'è la Costituzione, perché la democrazia prevede la possibilità di manifestare, adesso blocchiamo questo perché c'è una situazione che riguarda la salute dei cittadini, questo è quello che penso. Da qua andiamo in prefettura, credo che ci sarà l'obbligo della mascherina, di vieto di piazza Unità che l'abbiamo già fatta e dopo naturalmente sono convinto che bloccheremo anche le manifestazioni, perché è necessario bloccare le manifestazioni, anche se fino adesso non le abbiamo fatto, ripeto, perché la Costituzione e la democrazia di questo Paese prevede che uno può manifestare, però se questi sono i risultati blocchiamoli. Io faccio un appello ai manifestanti, io faccio un appello a queste persone che si ostinano, ripeto, a violare la libertà altrui, siete liberi di non vaccinarvi, siete liberi di farvi il tampone ogni 48 ore, siete liberi di fare cosa volete, ma lasciate vivere gli altri. Queste le parole del prefetto Valenti, proprio nella tarda mattinata di oggi la riunione del Comitato Provinciale della Sicurezza Trieste, lo stesso Valenti ha fatto sapere che si va verso un'ordinanza sindacale, domani se ne discuterà con i quattro sindaci dei comuni capoluogo per far sì che le misure adottate nel territorio siano appunto omogenee in tutta la regione. E poi ci sono i dati aggiornati del bollettino, come abbiamo sottolineato le terapie intensive oggi hanno raggiunto il 10% dell'occupazione, un limite da zona gialla, misura che scatta però solo se contemporaneamente le aree mediche vedono occupato il 15% dei posti letto, condizione che non c'è in Friuli, Venezia, Giulia, dove oggi su 1.535 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,1%, sono inoltre 4.196 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, lo 0,21%. Non si registrano decessi, ma sono salite di 4 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, oggi sono 18. Crescono anche i pazienti accolti in altri reparti, siamo arrivati a 75. Sono 2.081 le persone che attualmente si trovano in isolamento. In vista di un possibile aumento dei casi di covid gravi, all'ospedale di Udine è stata riorganizzata la terapia intensiva 2, 12 posti letto a disposizione, apre anche un reparto per portatori sani che giungono in emergenza per incidenti o altre patologie, come ad esempio gli infarti. Vediamo. Liberi dalla giornata di domenica ai 12 posti della terapia intensiva 2 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine potranno essere destinati a nuovi malati critici di coronavirus. Visto l'incremento abbastanza rapido del numero dei pazienti covid che necessitano di terapia intensiva, abbiamo pensato, e questo è stato il programma di organizzativo stabilito dalla direzione, di rimodulare l'attività, nel senso che attualmente il numero dei posti letto disponibili per la terapia intensiva covid dedicata hanno raggiunto la saturazione, quindi 9 posti letto e abbiamo 9 pazienti da ieri sera. E in questo modo abbiamo sostanzialmente svuotato questa terapia intensiva, allocando i pazienti nell'altra terapia intensiva di questo ospedale permettendo di, in caso di ulteriori pazienti intensivi covid, di ricoverarli in questa sezione. Programmato anche un reparto per i portatori sani che giungono in emergenza al nosocomio per incidenti o per altre patologie e che non hanno sviluppato la malattia del covid. Nello screening che viene fatto al paziente quando entra in ospedale, quindi anche in questo caso il politrauma o altre patologie anche mediche, viene fatto lo screening, il paziente si ritrova a essere portatore, quindi positivo, non magari con la polmonite, però questo malato che richiede l'assistenza intensiva ed è positivo, deve per forza essere allocato in un reparto di terapia intensiva dedicato e isolato dagli altri reparti, salvaguardando sia il personale sia gli altri pazienti ovviamente e questo lo stiamo realizzando in questi giorni. E la protezione civile regionale ha aggiornato questa mattina la mappa del contagio covid in regione. A preoccupare sono i dati in aumento in gran parte della Venezia Giulia. Monrupino risulta il territorio con il più alto dato di prevalenza in regione, ovvero 18,2 con 16 cittadini attualmente positivi. Poi c'è il dato del capoluogo regionale con una prevalenza di 4,7, sono 952 le persone contagiate, di cui 484 attualmente in isolamento. In Friuli è ecodroipo ad avere un alto numero di contagi, 47, tanti quanti a Pordenone. Nel capoluogo del medio Friuli l'indice di prevalenza è di 3, un dato da tenere monitorato visto che Udine conta 76 casi e un indice di prevalenza di 0,8. Da tenere sotto controllo anche la situazione a Damaro con un indice di prevalenza di 14,3, 12 casi di positività all'interno del comune. Attenzione anche a Vito D'Asio con 5 positivi e un indice di prevalenza di 6,1. È in arrivo su tutta la regione un'ondata di maltempo che giungerà accompagnata da vento forte, nubi fragi e anche mareggiate e acqua alta fra Lignano e Grado. Questo il quadro che ha portato la protezione civile regionale ad emettere un'allerta di colore giallo per il rischio di criticità idrogeologica su tutta la regione dalle 18 di oggi fino alle 8 di domani. Un intenso fronte freddo atlantico interesserà la regione. In serata, nella prima parte della notte, sull'alto adriatico affluiranno correnti sciroccali sostenute. Per fare il punto della situazione, per capire quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Abbiamo sentito il nostro meteorologo Antonino Renda. Nelle prossime ore avremo la fase più acuta del peggioramento del tempo. Un peggioramento del tempo che sarà decisamente consistente, comunque sia di breve durata, in quanto entro la prima mattina della giornata di domani, martedì 2 novembre, avremo una graduale attenuazione dei fenomeni e poi un graduale miglioramento del tempo. E il maltempo ci concederà qualche ora di tregua. Comunque sia nelle prossime ore è lecito attendersi delle piogge, localmente anche molto intense, dunque anche locali nubifragi, quindi in grado di scaricare in breve tempo ingenti quantitativi di pioggia. Poi voglio sottolineare il fatto che avremo dello scirocco sulla costa in queste ore e nelle prossime ore, quindi scirocco localmente anche forte, con raffiche di vento anche superiori e 70-80 km orari e con il rischio ovviamente di qualche mareggiata del fenomeno dell'acqua alta. Questa fase di maltempo, comunque piuttosto breve, però sarà seguita nei prossimi giorni, tra il 3, quindi tra mercoledì e giovedì, da un ulteriore peggioramento del tempo collegato a questa saccatura atlantica che vedete qui. La cronaca versa in gravi condizioni una donna di 65 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto intorno alle 15 di ieri a Gemona del Friuli, lungo la viabilità che porta al monte Quarnan. La donna, residente in Veneto, è stata accolta in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Udine. Ferite in maniera meno grave altre due persone che viaggiavano a bordo della stessa vettura uscita di strada. Si tratta di due uomini di 55 e 57 anni che sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo, sul posto i vigili del fuoco di Gemona del Friuli. Scontro tra una Mieti Trebbia e una vettura nella prima serata di ieri, nella frazione di Farla, in comune di Maiano, ferito il conducente dell'auto, fortunatamente in maniera non seria. Per causa in corso d'accertamento, i due mezzi si sono scontrati, il ferito è stato portato in ambulanza all'ospedale, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Daniele che hanno messo in sicurezza i due veicoli coinvolti e la strada. Un cane da caccia scivolato in un canalone è stato salvato ieri sul monte Lovenzola. Le operazioni di recupero sono venute a circa 1.500 metri sul livello del mare, hanno visto impiegato anche un elicottero drago dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia. Ad operare il salvataggio sono stati i pompieri di Tolmezzo dopo aver localizzato l'animale. Le squadre hanno approntato numerose manovre di discesa in parete, alcune di 50 metri, per riportare il cane a valle, dove ad attenderlo c'era il padrone. Un incendio si è verificato la scorsa notte in un appartamento di una palazzina a 5 piani in centro a Trieste, in via Totti. L'allarme è scattato alle 3.40. L'incendio sarebbe stato causato con ogni probabilità nel piano cottura, in cucina. Il fumo ha poi invaso l'alloggio e anche l'appartamento al piano superiore. Le persone all'interno delle due abitazioni sono state medicate sul posto dal personale sanitario e sono rimaste leggermente intossicate. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno concluso l'intervento alle 6.30 di questa mattina. Trasporti a Singhiozzo a causa del Green Pass per l'assenza degli autisti, una realtà che ha messo in difficoltà a lavoratori e studenti. Ma c'è anche chi non ha risentito dell'obbligo della certificazione verde. È la FUC che in questo periodo non ha soppresso nemmeno una corsa. Tra i settori che hanno maggiormente risentito dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass c'è il trasporto pubblico locale che dal 15 ottobre ha dovuto fare i conti con l'assenza di una percentuale significativa di autisti. Ci sono però anche realtà che ne hanno risentito minimamente, tra queste la società Ferrovie Udine-Cividale che in questo periodo è riuscita a garantire tutte le corse sia sulla linea Udine-Cividale che per il servizio Micotra che collega Trieste, Udine e Villac. FUC conta una settantina di dipendenti spiega l'amministratore unico della società Gianpaolo Graberi meno del 5% dei quali sprovvisto di Green Pass che ha continuato a lavorare ha stretto i denti consentendoci di non sopprimere nemmeno una corsa. Ringrazio il personale per la sensibilità e l'attenzione dimostrata questo è un bel segnale prosegue Graberi ma naturalmente non vuol dire che siamo migliori degli altri i servizi che le varie società del TPL offrono sono molto diversi così come le condizioni in cui si opera. La linea Udine-Cividale è frequentata soprattutto da pendolari sia studenti che lavoratori al mattino i treni contano mediamente tra i 130 e i 140 passeggeri a corsa al pomeriggio tra gli 80 e i 90. Sono parecchi anche i pendolari che per raggiungere la scuola e il luogo di lavoro utilizzano il servizio Micotra mediamente tra i 60 e i 70 ogni mattina. Il convoglio è meglio conosciuto come il treno delle biciclette che alimenta l'utilizzo della ciclovia Alpe Adria nei fine settimana estivi trasporta 100 bici e 200 passeggeri a corsa numeri lontani dai 100.000 passeggeri del 2019 ma assolutamente dignitosi in tempo di pandemia. Il comune di Udine ha concluso una serie di lavori di manutenzione al cimitero monumentale di San Vito in vista proprio del primo e del 2 novembre. È stata anche ripulita e sistemata la tomba della famiglia Morpurgo. Elio è stato un benefattore della città detto il sindaco Fontanini è nostro compito occuparci ora dei suoi cari. Sindaco l'impegno del comune per ricordare una famiglia molto importante per il comune di Udine e per la storia di Udine e la famiglia Morpurgo. Sì, siamo di fronte alla tomba della famiglia Morpurgo e Morpurgo furono dei benefattori in particolare Elio Morpurgo che non è sepolto qui perché purtroppo il suo corpo non fu mai ritrovato lui fu prelevato dai nazisti dall'ospedale di Udine portato in campo di concentramento durante il viaggio morì. È stato sindaco di Udine e ha lasciato al comune di Udine in eredità il palazzo Morpurgo in via Savorniana quindi c'è un obbligo da parte di noi amministratori di fare una manutenzione straordinaria a questa tomba che sono i cari della famiglia Morpurgo che ormai non esistono più non ci sono più parenti vicini che possono fare questi lavori li abbiamo fatti noi come comune proprio in riconoscenza di questa grande persona e per ricordare in pratica la sua generosità abbiamo fatto questo lavoro di pulizia straordinaria della tomba dei cari della famiglia Morpurgo Restiamo a Udine perché dopo un anno di stop legato alla pandemia il Luna Park è tornato a colorare a piazza Primo Maggio autoscontri e altre attrazioni rimarranno in città fino a domenica 14 novembre quando dovranno lasciare Zardingran per fare spazio alle bancarelle di Santa Caterina ma i 30 operatori si rivolgono al comune e chiedono che le giostre possano rimanere anche durante lo svolgimento della secolare fiera Paolo Grandi è il portavoce degli operatori che hanno allestito Luna Park a Udine che edizione è Paolo? Questa è l'edizione di Santa Caterina l'edizione quella giusta come si può dire l'edizione che venne svolta da tantissimi anni qui a Udine e sfortunatamente sembra che non riusciamo a fare neanche quest'anno Santa Caterina sarebbe un nostro desiderio riuscire a rifarla in Piazza Primo Maggio con i banchi e quant'altro insomma Quanto rimarrete aperti? Noi facciamo tre weekend per questo momento e speriamo appunto di riuscire a avere un tavolo d'incontro con l'amministrazione e magari vedere dato che siamo in formula ridotta di riuscire a sistemarsi assieme ai banchi alla manifestazione di Santa Caterina sarebbe un desiderio che potrebbe diventare realtà secondo me Siamo tornati in Piazza Primo Maggio per me che sono uno degli storici che veniva mio padre a sua volta mio nonno per me è stato un grande ritorno per altri per tutti gli esclusi logicamente non è stata una cosa positiva però vediamo di andare avanti e trovare assieme all'amministrazione un sistema un qualcosa che ci possa far ritornare tutti quanti in Piazza Primo Maggio Al via Cividale nuove indagini archeologiche per il tempietto Longobardo per qualche mese il bene Unesco non sarà accessibile si potrà ammirare solo dall'alto al primo piano del monastero di Santa Maria in Valle da pochi giorni il tempietto Longobardo di Cividale del Friuni potrà essere visitato solo dal primo piano del monastero di Santa Maria in Valle solo dall'alto l'area infatti è interessata da un'eccezionale campagna di scavi archeologici che finora ha toccato solo l'aula del tempietto e che nei prossimi giorni si estenderà anche al presbiterio gli interventi di indagine coordinati dalla soprintendenza permetteranno di scoprire ancora qualcosa di nuovo del bene Unesco con la suggestiva vista dall'alto sarà possibile ammirare anche gli scavi in corso il percorso al primo piano del monastero è molto suggestivo consente di osservare anche alcuni allestimenti etnografici legati alla vita delle suore e delle allieve che vi studiavano e di entrare nel coro della chiesa di San Giovanni e nell'ala delle celle dove tuttora è esposta alla mostra la via dolorosa di Alessandro Romano visto il disagio per il turista l'amministrazione comunale ha deciso di offrire l'accesso gratuito al vicino centro internazionale Podrecca Signorelli e di concedere una riduzione sul biglietto d'ingresso alla collezione della famiglia De Martis allestita a Palazzo dei Nordis Presentato al Massi College di Toronto il Dante Guarneriano di San Daniele del Friuli firmato un accordo tra comune scrittorium foro liuliense e Università di Toronto per la promozione del patrimonio guarneriano Presentato al Massi College della Toronto University il Dante Guarneriano di San Daniele del Friuli presenti il sindaco della Cittadina dei Prosciutti Pietro Valent il Console Generale d'Italia Eugenio Sgro la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto Veronica Manson il direttore del Dipartimento di Italian Studios University of Toronto Luca Somigli e diversi docenti non è mancato per il Friuli il presidente della FAME Furlans di Toronto Renzo Rigutto dopo la presentazione il sindaco ha firmato un accordo di collaborazione tra Comune di San Daniele lo Scriptorium Forum Iulensi e l'Università di Toronto l'obiettivo è di collaborare insieme nello studio e soprattutto dice Valent nella valorizzazione e promozione del patrimonio guarneriano sviluppando progetti di realtà virtuale e anche scambi culturali e viaggi di studio tra San Daniele e Toronto noi ci fermiamo qui tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva in primo piano l'Udinese per i bianconeri si prospetta il ritiro mister Gotti sarebbe nel giro d'aria i Pozzo non sarebbero convinti dalla performance della squadra subito dopo l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda vi ricordo alle 21 l'appuntamento in diretta con Bianconero XXL grazie per averci seguito buon proseguimento di serata arrivederci grazie per averci seguito